Ecco io direi di cominciare subito con i risultati e poi li commentiamo brevemente prima di passare ai collegamenti. Partiamo dunque dalla realtà, dai risultati. Ecco la schedina. Altri di B. Brescia e Pescara 1 a 1. Cagliari batte Nocerina 1 a 0. San Benedettese batte Foggia 3 a 2. Genova batte Varese 2 a 0. Lecce batte Rimini 1 a 0. Palermo e Sampdoria 1 a 1. Ternana e Pistoiese 1 a 1. Dunque dicevamo che è stata una giornata piuttosto curiosa. Infatti al termine dei primi tempi, addirittura in classifica, al termine dei primi tempi il Perugia aveva raggiunto il Milan. Il Perugia era riuscito a segnare con un gol Lampo proprio in apertura di Butti a Catanzaro. Il Catanzaro attaccava in vano. E il Milan subiva. Il Verona aveva segnato con quel calloni che si era legato a dito con lo stadio di San Siro che si era levato alla soddisfazione di segnare proprio alla squadra in cui era stato tanto discusso. Poi nel secondo tempo le carte sono mescolate. Il Catanzaro è riuscito a pareggiare. Il Milan prima ha pareggiato e poi è andato in vantaggio e quindi alla fine dei primi tempi il Perugia aveva raggiunto in classifica il Milan. Alla fine della partita, il risultato che conta, il Milan si trova con un punto in più ancora di vantaggio sul Perugia a tre giornate dal termine. Vedremo adesso la classifica. Per quanto riguarda la coda della graduatoria, l'Ascoli ha fatto un grossissimo passo a spese del diretto avversario Avellino. L'Atalanta addirittura è andata a vincere a Firenze, però è in ritardo comunque, ha fatto una bella impresa. Male è andata la Roma contro la Juventus, al Vicenza in casa con l'Inter e al Bologna, a Napoli. Bologna addirittura si è visto proprio sul 1-2, poteva essere il pareggio, il rigore calciato da Paris e parato da Castellini. Vediamo dunque la classifica a tre giornate dal termine. Milan 40 punti, a tre lunghezze il Perugia 37, Inter 36, Torino e Juventus 34, Lazio 28, Fiorentina e Napoli 27, Catanzaro 26, Ascoli 24, Avellino, Vicenza e Roma 22, Bologna 21, Atalanta 20, Verona 12. Vedete dunque come l'Atalanta ha serrato sotto e come appunto le squadre siano messe così in maniera sempre più agguerrita una contro l'altra per questa grande bagarre finale, mentre per lo Scudetto il Milan ha fatto un ulteriore, forse definitivo passo, possiamo dire, avanti. Bene, allora vediamo adesso la vittoria dell'Inter a Vicenza per 1-0 con rete di Oriali all'inizio della ripresa. Pronto Paolo Arcella? Sì, è stata una bella partita, giocata con grande determinazione da entrambe le squadre. Ha vinto l'Inter e non si può dire abbia rubato nulla, ma si deve riconoscere però che Vicenza ha battutosi coraggiosamente, nonostante la decimazione dei ranghi, un pareggio se lo sarebbe davvero meritato. Il primo tempo non ha offerto molte emozioni. La principale è una parata di Bordon, una parata un po' difficoltosa, la vedremo fra poco. Ecco ora la palla è a Cerilli che effettua un tiro cross sul quale interviene Bordon che va dentro la porta con i piedi appunto, come vedete tenendo però forse la palla fuori. I sostenitori locali hanno gridato il gol ma l'arbitro non l'ha concesso. E questo è l'intervento di Galli su Altobelli con cui si è praticamente concluso il primo tempo. La ripresa si è aperta con una grossa occasione da gol per il Vicenza che è andato molto vicino alla segnatura come si vede, ma i difensori interisti si sono salvati un po' fortunosamente e l'offensiva interista si è risolta nel nulla. E anzi, proprio sul prosieguo dell'azione che nasce in questo momento, nasce il gol interista. Ecco l'affondo sulla sinistra. Ecco il giocatore dell'Inter appunto che avanza. Il passaggio al centro, l'appoggio per Oriari, il cui tiro rasoterra finisce alla destra di Galli ed è gol, forse sorpreso. E al dodicesimo l'Inter quasi raddoppia, ecco l'azione. Ma Galli stavolta è bravissimo e i difensori lo aiutano a salvare la loro rete. Si scuote poi il Vicenza e si rovescia con rabbia all'attacco. Al 23esimo il pareggio sembra cosa fatta, ma la porta interista come si vede sembra stregata e l'azione si risolve nel nulla. Due minuti più tardi, azione quasi identica, ecco la dovesciata di Briaschi, altro palo. Ma appunto il tiro finale di Rossi è sul fondo e nulla da fare per il Vicenza, il gol non viene. Viene al 41esimo. Ecco un'altra azione un po' convulsa e la palla che finisce in rete. I tifosi vicentini e i giocatori vicentini esultano, ma l'arbitro Michelotti lo annulla probabilmente per un fallo di Rossi sullo stesso Vini. E la vittoria rimane all'Inter. A te la linea con questo Valenti.